ben ritornati a tutti amici nazzurri qui con il tg flash internews ufficiale l'acquisto il giocatore canadese ha firmato il contratto con l'inter che sarà valido fino al giugno del 2028 guadagnerà un milione di euro e mezzo a stagione due super invece ai saluti per stefano sensi si sta muovendo il sassuolo però ancora nessuna offerta concreta il giocatore potrebbe lasciare a sei mesi di scadenza del contratto l'altro è l'usiana come che ha cambiato idea circa la destinazione il marcia ha abbandonato la pista e il sevilla sembra appunto la squadra preferita dal giocatore francese si attiva infine un derby di mercato per tiago giallò il juventus spinge per il difensore vuole offrire per gennaio 3 milioni di euro più bonus il lille vorrebbe che il difensore accettasse bianconeri ma c'è ancora un accordo tra i nerazzurri e giallò per giugno quando il calciatore si potrà liberare a parametro zero se volete avere maggiori informazioni seguiteci quest'oggi a partire dall'ora 18 con interchat sui canali facebook twitch e youtube per restare sempre aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore se sei interista non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app android o ios per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'inter ci trovi anche su facebook twitter instagram youtube e telegram se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero azzurre internews.it è quello che fa per te